Andiamo a vedere come funziona il meccanismo di infiammazione degli alcaloidi contenuti negli ortaggi come pomodoro, melanzane e peperoni nel nostro organismo. Ecco, questi componenti agiscono soprattutto sul tessuto gastrointestinale, irritandolo e possono addirittura corrodere i villi intestinali. I villi intestinali sono delle estroflessioni, dei ripiegamenti verso l'esterno della mucosa intestinale e hanno il principale ruolo di assorbire i nutrienti introdotti col cibo. Una mucosa intestinale irritata, dameggiata, causa permeabilità intestinale, il cosiddetto intestino poroso e da qui nasce un processo che tende a non mantenere più le condizioni locali fisiologiche, ovvero l'omeostasi. In seguito, per difesa, l'organismo innesca il meccanismo dell'infiammazione, oltre al fatto che un intestino permeabile causa malassorbimento e quindi una carenza di vitamine, di minerali e di nutrienti in generale.